Un grave lutto purtroppo sconvolge il nostro paese l'Italia. E' morto infatti proprio oggi, 10 agosto 2019, il grande Piero Tosi. Era un costumista molto famoso nel nostro paese ed era anche un docente italiano. Era nato a Sesto Fiorentino il 10 aprile del 1927. Diede il meglio di sé con Visconti nella prosa, nella lirica, ma anche nel cinema. Infatti fu in senso in Rocco e i suoi fratelli, Le Otte Bianche, Il Gliotto Pordo e Di morte a Venezia. Ma anche con altri registi, tra i quali spicca il buon Mauro Bolognini. Lavorò per diversi anni con il titolo di costumista teatrale e poi si affermò in maniera preponderante nel mondo del cinema. Collaborò a famosi e importanti registi che contribuirono a fare la storia del cinema italiano. Come il buon Lucchino Visconti, Federico Fellini, Mauro Bolognini, Vittorio De Sica, Liriana Calabani, Franco Zeffirelli e Pierpaolo Pasolini. Operò in diverse alcune principali sartorie italiane di prestigio. Teatrali ovviamente, come quella di Umberto Tirelli, a distanza di alcuni anni dalla scomparsa proprio di Costui. Insomma, un personaggio davvero importante che non può non essere menzionato, nonché citato, per ciò che di buono e di bello ha fatto per il nostro paese nell'ambito e della docenza italiana e del mondo del costume. Vi ringrazio infinitamente per la visione e in secundis per l'ascolto di questo video di oggi. Tutte le informazioni che avete ascoltato sono state prese da Wikipedia, la encircopedia libera pertanto prive di copyright. E questo video non vuole ledere la privacy di Piero Tosi né della sua famiglia, ma solo informare eventuali persone del fatto che purtroppo si è spento e passata a miglior vita. Piero Tosi riposa in pace. Amen.